ok l'attesa è finita si può iniziare a rotare per un solo obiettivo la vittoria e si rotta sicuramente qua allora la preoccupazione è tanta però è tanta la preoccupazione ho tanta paura ovviamente è troppa paura e la capiremo io lo so boh allora attenti eh ok allora concentriamoci adesso solamente sul risultato e ok vediamo se il vostro è giusto ok dire che si può andare ok ok si inizia si inizia si inizia sarà stato bello comunque vi va per qua adesso adesso bisogna ottenere il risultato io ho paura tanto ok vabbè si tenta a vincere però è tosto è tosto è tosto però si tenta a vincere questo è questo è l'importante cazzo eh ok vediamo tutte le emoji potremmo vincere potremmo perdere chi lo sa ok aspettiamo che finisca i clicassi la tappa allora ricordiamoci della fuga ricordiamoci cose importanti dentro a me e adesso ci proviamo è il momento allora tattiche qualcosa in mente ce l'ho provata non l'ho neanche provata questa che non si trova la gente con cui provare queste cose e sono solamente tanto ma tanto tanto ma tanto preoccupato che allora il livello non è altissimo però è tutta gente comunque che ha battuto in altre competizioni gente che sono stato capace di fare fuori pisci e dennis quelli più più piccoli li ho fatti fuori in line line quindi si potrebbe ottenere qualcosa di interessante va bene ora è il momento di iniziare ma poi sul serie cosa è successo ma cosa è successo adesso dobbiamo impegniarsi tanto 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 cosa è successo ovviamente adesso ovviamente si sciocchiamo il boss ovviamente possiamo andare adesso per la seconda volta o a come bene ok allora cosa abbiamo in mente? questo cavolo di caricamento che è due un'eternità ah yeah ok nel momento di vincere questa finale come non lo so ah 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 appena vengato male chiaramente ok è il momento si va si va che cazzo è successo adesso? ah ovviamente ah ovviamente sempre così allora la finale da gente mi vergognerei a fare certe figure in finale un po' ci metterò ovviamente dobbiamo aspettare le sue grandi grafiche e un centriamo si ok ok quando ho finito questo qua ma io se mi vergogno io mi vergognerai di entrare qua dentro in finale e di far aspettare quante cristiani di far aspettare quanti di far aspettare 20 cristiani quanta gente sta facendo aspettare io mi vergognerai non mi interessa io mi vergognerai semplicemente vabbè io comunque non voglio entrare nel mio evito ci concentriamo sul staccarlo di tappa e andiamo ok 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 ci stiamo ci stiamo accadendo mandiamo 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 questi questo e poi ma poi ci mandiamo ci mandiamo anche al 2s ci sta ci sta ci sta al 2s ci muovo al 2s in fuga quanta gente c'è in fuga fondamentale non mi prendiamo fuori dalla fuga lanciamo un attacco via che non c'è in fuga tutti ci sono in fuga ci soffrono non c'è è un ottimo attacco andato via che non c'è in fuga Dennis no Matteo non c'è in fuga Team Sosky devo giocare da sola Team Sosky lasciamo le giocare da sola ok ora è il momento adesso di un po' di collaborazione davanti c'è no è che si è staccato adesso devo che sia no ok allora vediamo un po' la competizione davanti c'è gente che ha il mezco ok ovviamente c'è PC che ha fatto una buona competizione davanti PC è l'unico che ha Team Sosky comunque ok e finiamo l'antito cioè Team Sosky gioca la prenda in cura quindi Team Sosky la facciamo prendere in cura questo è bello meglio ti vale ok Team Sosky Bonifazio come sta? sta bene Bonifazio dai Gattaneo ottimo di Gattaneo grande che sta di tutto guadagnando qualcosa su Team Sosky che sta completamente cazzeggiando ma non ha capito che questi se stiamo attenti lo vedete perché quanti hanno i 74? quelli in fuga di D2 ce l'hanno i 74? si no no si ce l'ha tutti hanno i 74 tutti hanno praticamente la stessa composizione vabbè quindi noi non abbiamo metà con vantaggio l'abbiamo Team Sosky che potrebbe essere meno vantaggiato in questo momento poi ho detto qua in quelli davanti tira vecchia che non tira vabbè tivano tutti comunque situazione è abbastanza strana non mi ricordo mai una volta in cui tivano tutti davanti e tira che tanto più che altro dopo non tira ma comunque stiamo guadagnando qualcosa stiamo guadagnando ancora il clay e questi qua devono capire che qua se continuiamo a tivare noi davanti noi arriviamo Team Sosky potrebbe ritrovarsi con uomini in meno in modo assurdo eh perchè comunque sono l'incipica 100 km più nel piano in paese quindi quanti km sono l'incipico? un'altra un'altra settantina di km sono da solo se ne va da solo viene attardato quindi meglio continuare a dare impulso all'azione davanti sicuramente Team Sosky quindi mi chiedo infatti come faccia se altra gente da vivere in finale ok ok quindi ok 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 ottimo ottimo ottimo, 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 ottimo. ottimo ok 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 allora c'è Tim Sarosky che sta dormendo quindi quelli potrebbero essere i risultati che cioè McClay che potrebbe essere morto poi il cronome non è fortissimo come dovrebbe essere in sto gioco ok dai che la situazione non è neanche tanto male taglia Cattaneo taglia Cattaneo che potrebbe arrivare Cattaneo sta facendo un ottimo risultato ottimo Cattaneo ottimo Cattaneo ok quindi adesso non succede ancora niente ma mai Tim Sarosky si è messo in un casino Tim Sarosky a questo punto potrebbe essere una cosa dove i 5 davanti chi lo sa sicuramente Tim Sarosky è quello a dove comunque noi davanti con questo vittimo arrivano tutti davanti e continuiamo a guadagnare ma anche parecchio peraltro e se continuiamo a guadagnare così fa vecchio ok ok va bene va bene va bene va bene va bene tanto qua dentro ok vabbè dietro il Tim Sarosky potrebbe essere in difficoltà quindi vabbè potremmo avere già un uomo indietro potremmo eh aveva già un uomo che finalmente potrebbe pagare questa cosa quindi potremmo avere già la prima vittima ottimo 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 Tim Sarosky potrebbe vercelo ormai potrebbe avere chi ha se utilizza questi due non stanno tirando regolarmente però stanno comunque potrebbero avere comunque due uomini più stanchi quindi vi si troverà probabilmente con un vantaggio se continuiamo a tirare così forte davanti se non vi trovarci con parecchio vantaggio quindi potremmo come interesse poi dobbiamo concentrarci sul risultato finale intanto ottimo 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 con un vantaggio così mi sa che vinciamo noi davanti ce la possiamo giocare oltre che qua sembrerebbe esserci stata un'accelerazione un po' bastardella aumentiamo leggermente il mito con buoni grazie per evitare di attardarci buoni grazie comunque fantastico tutti i govido che comunque non mi stanno deludendo per niente comunque 75 non butto va dove sto dicendo che è il chiottino che non mi fa attivare ma io vado di 76 vediamo io mi trovo bene di 75 così appunto vedi che non sono comunque full essendo full melodie no infatti vedete vedete che i risultati si stanno vedendo prendiamo il pavè con più o meno prendiamo questo ottimo pavè con più o meno due minuti e mezzo di vantaggio quindi direi che a meno le possibilità di vittopia non sono bassissime ok incominciamo inizia il delivio inizia il pavè inizia il pavè il pavè non è stato pavè che non è stato neanche così selettivo ottimo oggi ci sta questo pavè dietro è un nome guadagnato ma neanche tanto oggi ho chiesto ancora questa stradina stretta però cosa quasi in soski ti fosse un'accelerazione potrebbe fare un pochino male un pochino di male potrebbe farcela però chi lo sa ma quanto sono posso anche vedere di tua nello suo stream quanto è ma quanto è quindi mettiamo di tua quindi mettiamo di tua adesso quindi mettiamo un attimo la live di tim soski ok vediamo un attimo con la situazione di tito di tim soski appunto l'avevo detto che non è messo bene avevo detto che non sta messo bene abbiamo una differenza di più o meno e se continuo comunque così eh continuando a stirare non voglio dire cagate ma potremmo addirittura e così lui perderà uomini lui li perde sicuramente uomini così mi ha detto abbiamo tirato benissimo quindi secondo me potrebbe essere adesso male ma non non benissimo però comunque ho visto probabilmente si ritrova il più pesto possibile con due uomini invece che uno invece con due uomini in meno nel gruppo e cosa farà? probabilmente immagino che potrebbe addirittura ho permesso che possa addirittura per entrare all'attacco chi lo sa perché ok inizia il cuore un occhio a mantenermci davanti in gruppo chi è che rompe a questo ok 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 blocco ovviamente se non lo chiedeva vera che non avessimo posito il blocchettino però attenzione attenzione veramente mica quanto casino ogni volta su sto pavè buoni pazzo impeccabile vabbè ci stiamo ci stiamo ok team softs che perde due uomini ottimo 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 risultato per noi ottimo risultato per noi team softs che in difficoltà team softs che in difficoltà ok cazzo bonifazio eh bonifazio che esista appunto ve lo facciamo accelerare non adesso non adesso non adesso non adesso no io voglio una accelerazione da bonifazio bella la accelerazione di bonifazio no 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 vai andiamo 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 vai 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 bonifazio vai bonifazio ci sono altri leader qua vabbè ce la fa ce la fa ce la fa bonifazio vabbè c'è anche ti dove potrebbe lanciare anche lui deve anche lui il suo contributo tanto appunto da pure lui il suo contributo giustamente no se parte è un figlio tipo di vabbè niente voglio evitare ban però vabbè appunto abbiamo comunque gestito relativamente bene ok va bene va bene va bene consumato un po' di energia team softs che vabbè probabilmente ma questi sono gli attacchi di matteo insensate muoverevano le acque in gruppo però in questo momento potrebbe ha sbagliato completamente non è così che si approfitta cazzo ovviamente non è così che si gioca che mi stacco in pianura però questa è un'altra storia vai mettiti bonifazio bella bella vai finisce ottimo ok abbiamo finito qua la storia dei nostri attacchi non dobbiamo più fare cavolate bonifazio adesso attento e abbiamo cranieri combinati già abbastanza per oggi e vabbè davanti continuo a attivare ma matteo ovviamente tenta di fare super eroi ma non ha capito che bello 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 che si ne va via sull'angolino buono bonifazio buono bonifazio bravo bonifazio che non perde contatto buono bonifazio così che non perde contatto taglie taglie buono bonifazio buono bonifazio bravo bonifazio ah perché ti voglio questo infamotto ok lì finiamo di là dimmi che sia che dobbiamo diventa buono che ci riporta sotto pici hoccio che è partito il visi io non chiudo ma occhio e sono attacchi questi che non portano da nessuna parte l'unica cosa che si ottiene è costringere l'intero gruppo blocca l'attacco davanti non è così che si approfitta della debolazione di un altro c'è uno ovvero c'è un uomo che si chiama Timi Soski che è nettamente in difficoltà rispetto a tutti noi e non è così che lo si attacca non lo sta attaccando se lo sta solamente mettendo in la solamente facendo spiegare le regi a noi Timi Soski vabbè Timi Soski ovviamente non capisco come la gente si mette a tirare adesso tiriamo o no non tiriamo più se la gente in gruppo tira perché dovemo tirare noi adesso perché la gente vabbè non importa non importa hoccio abbiamo visto che già adesso ci saranno sicuramente attacchi dal gruppo quindi va bene va bene non importa portando a stare attenti eventuali attacchi in gruppo ottimo vai a Bonifazio a Bonifazio vuol dire come si copre è Bonifazio eccellente eccellente grandissimo Bonifazio Bonifazio comunque sta giocando sta coprendo molto bene ci siamo staccati adesso comunque non me la sta spiegando energia e vabbè Timi Soski in usi di Teami Soski comunque gli sono stati un po' di scherzi ma Timi Soski comunque nettamente quello che ho messo peggio qua quello che mi aspetto è un attacco da parte di qualcuno qua dentro in gruppo ma sicuramente Matteo secondo me ha partito intanto un attacco distruggire non è un attacco che potrebbe arrivare ottimo che qua diventa addirittura addirittura Swift va via domanda di chiudere ciò che potrebbe diventare azione però finché c'è un abbiamo un vantaggio così altro non avrebbe neanche senso per noi buona situazione qua eccellente la cosa parte Matteo l'avevo chiamato l'avevo chiamato da sono quegli attacchi che non possono portarti a nessuna parte questi sono gli attacchi che non ti portano ok già adesso la situazione sembra più strana vabbè vabbè sembra si sono spompato un pochetto aveva un pochino richiuso un po' la situazione davanti perdete uomi quindi si trova completamente da solo ciò ciò e qua buono va bene va bene l'importante che rischia solamente di portarci occhio anche se tentasse di ventrare poi la situazione comunque sarebbe finita ugualmente quindi dobbiamo stare davanti questa è l'unica cosa che so dire qua Dennis è uno che deve sa fare comunque molto bene queste corse intanto davanti non bisogna continuare ad attivare ottenere i risultati faccio che Dennis vorrebbe lanciare l'attacco ovviamente che vabbè Tim Sosky è ormai stanco dobbiamo fare che se lui attivare attivare cosa sta attivando lo sta attivando per un cavolo e va bene va bene ci sta ci sta ci sta a sto punto Tim Sosky mi sa che è fottuto faccio che il cable move preferisco prenderlo leggermente più in testa il cable move quindi facciamo un buon ritmo a ciò che questa è un muro difficile il cable move preferisco prenderlo in testa almeno non prendermi i rischi inutili e lo prendiamo in testa anche con il bonifazio per evitare i rischi inutili poi non detto abbiamo male che l'abbiamo preso in testa oggi questo è bastardo sto buon oggi che bastardo sto buon è il non facciamo tirare vabbè 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 dai 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 vai 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 oh c'è qua fondamentale di pop tab ci sotto vabbè 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 non l'avevamo scelta non l'avevamo non l'avevamo scelta e che tira ovviamente non io cazzo comunque abbiamo gestito maluccio e occio che quasi potrebbe essere una situazione interessante quindi fa bene quindi fa bene attenzione che tenta di lanciare ok la tenta di lanciare l'azione chiudiamo ovviamente che si è messa comunque una situazione abbastanza interessante e noccio che qua vai 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 stiamo tutti davanti ok tutti davanti tutti davanti di denis addietro quindi attivate di quella importante facciamo allora niente niente tutti davanti tutti in gruppo tutti in gruppo fine 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 delle trasmissioni di tutto di ritornare a fare il vittima di quelli pecolari ok è partito al visimo di quelli attraffi che non capivo mai non portano nessuna parte quindi per l'asce non da oggi un altro folle parte la porta offensiva ok danni se vuole portire la porta offensiva me ne so accorta me ne so preso conto subito me ne so preso conto subito dennis che vuole portire la porta offensiva ok no niente 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 lo impediamo impediamo impedito agevolmente subito sgamato e dennis voleva partire la porta offensiva gli ho impedito subito non potevamo impedire occio occio dai 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 se dennis partireva la porta offensiva occhio che siamo stati messi male come va bene ottimo comunque qua dito che nessuno sembra vede dire matteo è davanti occio qua occio che magari lì guarda come acqua come siamo messi occio che adesso va bene fuori peso tanto una merda sto gioco va bene non importa va bene va bene importante essere full probabilmente mettere non so se stava full occio ottimo ottimo vabbè ci stanno abbiamo fatto uno di quei vittime comunque eravamo su buoni non siamo andati neanche altra cosa un po' di 85 in montagna importantissima questa cosa vabbè siamo in volta di sotto ovviamente quindi ci sta ci sta ci sta non possiamo lamentarci non possiamo lamentarci abbiamo ottimi compagni fuga ok manca poco il vecchio qua la volata per prenderlo davanti ok va bene va bene ok importantissimo prendere davanti il vecchio qua non non c'è non fai cagato meglio fondamentale che gli aggo davanti è diritto alla volata per prendere davanti il vecchio qua è diritto alla volata che volatone mi fai davanti il vecchio qua una volata assurda tutti davanti sul vecchio qua non va e vedere guarda col belli che lo facciamo un pochino per allentare il belli tutti a fare bit mello sul vecchio qua non manco ci cosa non c'è come non ci possono domani col belli il nostro leader è davanti ottani ovvero abbiamo sacrificato ovvie ragioni incredibile col brelli sta bene sta bene anche ossio magari dopo c'è il partem quindi vediamo col belli mettano un pochino oh sta dietro qua col belli ora stiamo facendo rimontare un pochino di energy a 30 ottimo col belli ottimo col belli comunque sta gestendo la grande la situazione buono pelucche che si sta portando davanti occio qua va bene va bene ci sta ci sta ci sta subito tutti ho tutta col belli un pochino più piano provato tenti in coraggio leader tentini coraggio danni coraggio il leader coraggio veramente sto facendo non hanno capito dice il leader indietro ha infami beh ben saluto lo facciano venire dietro io a sto punto io vabbè 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 ovviamente io non sto tirando che non mi interessa però qua ovviamente non farebbe il bull ovviamente io ok dentro è ottimo è vabbè vabbè quanto mi fa incazzare sto gioco dimmi che adesso ero sicuro ale è bettiola adesso percazzo è bettiola col bellito rossa ci sta ci sta ci sta non è neanche tanto indietro neanche tanto indietro neanche tanto indietro ottimo eh bene bene non è neanche tanto indietro Non è neanche tanto indietro Bene, va bene, va bene, va bene Va bene, va bene Questo è il fair play che non c'è manco Minchè ha affogato uno Questi qua manco aspettano sti qua Che animali Che animali sono questi, eh Proprio animali Proprio animali sono questi, vabbè A questo punto sembra che debba essere Seduta Ok A ciò quasi vuole bene, non c'è Voi cosa? Attaccato da Palooki Perché ho fatto tutti i perucchi ma ancora lo so io Vabbè tanto che mica vi servia, ok Aperte il visio, vabbè Credo andate a chiudere voi Ma c'è che non è stato manco un butto a tappo Te lo dico alla verità, eh Abbastanza previdente, ok Ok, ok, ok Prendiamolo Non facciamo cagate Visconti subito anche lui Dietro Vabbè adesso subito, subito, subito Attenzione mettiamo ovviamente qua Zeva Per evitare qualsiasi tipo di blocco, ok Buono, 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 buono Buono os, buono os Buono col belli, buono anche Visconti Buoni mi copi dove che stanno Tutti comunque buoni giocatori Buoni giocatori, partiamo Acceleration by Daniel Os Potrebbe essere stato un po' telefonato Senza poter fare neanche tanto telefonato Ma neanche telefonatissimo Chi è che è partito? È partito in seguito Eh, qui le pici, vabbè, qui i pici comunque Ma inutile che non ci serve a niente Utilizziamo il gel Quindi non è che ci cambia tanto Tanto comunque alla fine Che cazzo mi sono fatto il blocco da solo Vabbè fa niente, fa niente, fa niente Vabbè ce l'abbiamo Prendiamo il polemone in testa Vabbè, vabbè Che non ha fatto una putt' cosa Buono, buono Che prendiamo il polemone in testa Dove non è stato affatto male come cosa Prego di continuare l'azione Ok, questi qua non vogliono continuare Voglio continuare Vabbè, 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 fa niente, fa niente Buono pici, buono pici Ovviamente è stata un'ottima azione quella di pici Ottima azione quella di pici Ok, vedete il momento di utilizzare la Frabomove Ovvero Frabomove ovvero il momento Vedete il momento Questa è la Frabomove Ovvero dire a tutti di fare Vabbè Dire a tutti di fare Vabbè, vabbè Di tu, vabbè Pici e l'altro chi è davanti Vabbè Dire a tutti di fare Vabbè, gli altri tipano Gli altri tipano tutti Gli altri tipano tutti Gli altri tipano tutti Sono morti, sono morti, sono morti La linea di finish The riders just passed the five kilometers road sign All done Ah Dagli Dagli Ah Cazzo Guardi Cazzo Cazzo Guardi Merda Cazzo 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 Ci siamo Cazzo Quanto sono Se volate non si capisce niente Quanto Ci duvano questo Ci duvano quell'altro Vabbè Quanti punti abbiamo preso 35 Ha vinto Pici Cazzo 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 Vabbè 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 ci sono incazzato Pazzo Vabbè questo chiedevo un pesco Pazzo Pazzo Cazzo 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 ho fatto un partito ma cazzo non si capisce un caso codente allora grazie grazie cazzo dovevo fare io grazie 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 che casino allora adesso andiamo ci impegniamo e cerchiamo di tenere un buon risultato allora ok ora ci abbiamo congiunto ok ok allora allora qua quant'è? apriamo il posto? allora grazie a tutti ok ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti se avessi fatto bene ste volate cazzo cazzo mi è andato tutto male, ho fregato persone che non dovevo fregare ho fregato me stesso, ho fatto male non ti direi che è andata di merda io ho sbagliato, ho sbagliato tante cose ok 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 grazie a tutti 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 Allora, dobbiamo concentrarci qua, ancora, ancora, vabbè. Allora, non è andata male, adesso devo, non so cosa mi devo inventare adesso, non so cosa mi devo inventarmi, la devo inventare qualcosa, la devo inventare qualcosa, la devo inventare qualcosa. Ok. Allora, non so cosa mi devo inventare adesso, non so cosa mi devo inventare adesso, non so le devo inventare adesso, non so cosa mi devo inventare esi perché va, già andre Allora, io ho paura, adesso mi do' concentrere tanto adesso. Allora. Io mi concentrarti adesso. Oh, mi devo concentrare. Grazie. ok momento di impegnarsi momento che concentrati allora di contà quanti sono in mezzo no ok allora grazie grazie ma cazzo è arrivata così allo lo dobbiamo fare che vi vede questa volta e dici non ci credi non potremmeno e che cosa è fatta ok ok Grazie. 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 Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Grazie. Concentrati fa. Dei concentrati adesso. Questa è la legge. Di attacchi disperati probabilmente ci sarà un pc che trova a chiudere. Concentrati. Cazzo fanno. Dai colbelli. Accelera di Colbrelli. Secondo me molti non se ne sono manco accorti che ho messo il leader. Ho messo. Ho avuto mica se ne sono accorti che ho messo in fuga. Nibali. Solamente che Nibali qua non abbia tanta possibilità di vittoria. Concentrati però. Mi so schemi. Ho fatto proprio. una cosa così peggio che non lo potevo fare. Che se è staccato pici eh. Se poi ho staccato lui. Ah no. Sonio. Cazzo devo fare. Il problema è che c'è molta gente che... è qua per vincere. Consciente. Adesso cambiamo. Allora davanti stiamo tirando solo... Allora davanti stiamo tirando solo... Lo che stiamo tirando davanti. E però... È poi vera. Cazzo 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 se tirassero Matteo e Dennis Cazzo mi devo inventare La situazione comunque sembra essere vantaggiosa per chi davanti Cazzo Staccato Ok Non è possibile ad entrare Ok questa volta la situazione Messa anche diversamente Quello che fici comunque c'è gli uomini davanti a E davanti e dietro stanno tirando nel Dennis Cazzo Dennis Cazzo Matteo Diero. Grazie. Allora, adesso vediamo cosa possiamo ottenere. Allora, fuga, già 4 minuti in fuga, ecco questa fuga che abbiamo, siamo gli unici che hanno l'83 in fuga, e avendo l'83 in fuga cosa possiamo fare? Grazie. Grazie. Ok, ottimo. Allora. Ok. Grazie. 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 Ok, allora. Deto Tio, no vabbè. Ovviamente il gioco. Va bene, mi sa che... Bisa che... Ok, quindi togno di togno indietro, ho bisogno di approfittarne, ok, allora buono, buono, vado, buon vantaggio della fuga, un po' di vantaggio della fuga, nibari comunque, non lo so se potete davvero nei minuti, questa comunque è la digi bella, cazzo 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 cazzo, Allo, Allora, vediamo, abbiamo un po' di vantaggio, ovviamente che adesso 2, se li totivano, se li troverò, Matteo non tivo, comunque davanti, il problema rimane comunque anche davanti, che comunque abbiamo comunque uomini poi davanti più freschi. Allora Ok, allora, consentiamoci. Cazzo, se avessi fatto meglio prima, cazzo, ho sbagliato completamente io, pregato gli italiani, gli italiani ci dobbiamo aiutare, ho sbagliato io, poi, ho forcannato completamente lavorato, che non lo so che ho sbagliato. Adesso devo provare a fare il migliore visitato possibile, ho preso la vota sbagliata. Ho pure preso la vota sbagliata, quindi ho preso la vota sbagliata. Una voce, certi voi non li dovevo fare. Va bene, comunque. Allora, consentiti. Sì, fondamentale è che tu ti concentri. Concentrati, che è fondamentale. Allora, dietro sono in due che tirano. Ok. 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 Adesso potrebbe tentare qualcosa di interessante. Quindi, in caso la fuga vassero avanti vinciamo noi, questo è poco ma sicura. l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto punere con Team Sosky dietro. Potevamo vincere, no? Non l'abbiamo fatto. Ok, allora. Ok. 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 non lo so proprio cosa devo fare ricordiamoci quella possibilità ricordiamoci una possibilità in opera se faccio favorita dei punti posso recuperare però ce la devo fare adesso posso fare qualcosa in un certo non conto posto che mi va bene posso fare qualcosa no vita no adesso sto facendo poche grande e va bene santa vomita attivando mattino mi sembra assurdo per quantità minuti il dito non stanno neanche tirando ecco l'altra dura e dura ecco ecco abbiamo visto che toni toni un po che si stacca dal lupo però uscissi inventami qualcosa non è che cosa deve inventare quindi lo abbiano buone chance dai abbiamo una buona chance ok posso provvisore possiamo avere buone chance di giocare ci sono dove possiamo arrivare posso capire dove si può tentare l'attacco sta sapendo il dito davanti si potrebbe tentare qualcosa adesso ok ottimo 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 oh perché trovi ok va bene ci voleva ci voleva questo non recupero qualche secondino ma guarda qua vabbè dai non entri pure voi vabbè io qua vado in giubia non mi fai un cazzo qua vado in giubia qua non mi interessa questo fosse veramente una cosa assurda questa è una cosa vergognola se è completamente staccato si è completamente staccato come si chiama lo scopriete staccato io è questo così metà attivare solo questo è una vergogna una vergogna assurda una cosa del genere una vergogna assurda uno come tennis capire un livello così è proprio una vergogna è una vergogna quello che ha fatto una cosa vergognosa non mi posso sbilanciare di altro una vergogna quello che ho fatto una cosa veramente indecente non posso dire altro perché purtroppo non posso dire altro una cosa indecente quello che ho fatto io non ho favore vabbè se questo capo giocatore si vende si mette a chiudere su cosa esclusivamente su dire vabbè ma qua io lo scrivo non mi interessa o non mi interessa o non mi interessa o non mi interessa cosa è successo qua vabbè qui ho qua che mi metto a parlare mentre io mi faccio i cazzi miei vabbè io non ci credo più sto gioco di merda mentre io mi faccio i cazzi miei vabbè che cazzo stia facendo non lo so manco io questo è il problema mentre io mi sto facendo i cazzi miei ma non ne ho la minimi idea pure io di cosa cazzo stia facendo non ne ho la minimi idea anche io di cosa cazzo stia facendo in questo momento cazzo vabbè o ne vado o semplicemente ne vado cazzo che cosa sto facendo non lo so nemmeno io non so neanche cosa devo fare adesso qua cazzo qua quale cazzo è il gruppo non so neanche io che cazzo stia facendo cosa stia facendo cosa stia ottenendo semplicemente non ci sono proprio con la testa non so nemmeno io cosa stia facendo in questo momento non ci sono proprio con la testa non so nemmeno io cosa stia facendo in questo momento a diventare siamo diventati ma non so non qui cazzo stia facendo in questo momento non so nemmeno io ma è pure qualche di tua troppo cazzo stia facendo in questo momento non so nemmeno io ma è pure qualche di tua troppo cazzo stia facendo in questo momento non lo so nemmeno io se mi devono dire cosa stia facendo se mi devono dire cosa stia facendo non so nemmeno io cosa stia facendo ma che cazzo ma non so che cazzo stia veramente facendo vabbè penso ottenere il migliore risultato che posso ottenere ma vedo 2 ma ti concentri male vedo veramente 2 vedo veramente 2 vedo veramente 2 vedo che ho la testa un po' di santi vomito ora sto facendo non lo so nemmeno io cazzo cazzo cosa sto facendo merda ora mi sono fatto prendere gente che mi copre conto e cazzo mi è successo sono incazzato nero non dovevo succedere questo non dovrebbe succedere questo non dovrebbe succedere questo scenderti solamente per ottenere i migliori risultato adesso non scenderti solamente con questo chissà ci sai il buono che c'ha come c'ha Viscontino c'ha Giovannino Viscontino c'ha ok è importante continuare a esserci Giovannino Viscontino mi piace il domandino Viscontino di tutto il resto va bene sta bene Viscontino buono 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 qua non stiamo neanche perdendo tanto in energia buono che ce la stiamo giocando neanche malissimo O se qua secondo me Se uno può partire Ecco Qua se Matteo partisse Frebbe il devasto Ovviamente non è discesa Magari con il 65 In discesa però Il concetto è giusto O farebbe il devasto O farebbe il devasto Dai ok Non è riuscito a andare via Dai che ce la fa Vabbè Comunque sta bene Ma dove cazzo Sto finito Come me mi continuo a staccare Non lo so neanche io Anche io so come Me mi continuo a staccare Continuamente Però Non ci sto con la testa Ok 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 Adesso che possiamo fare un buon mito con Pozzeria Attenzione a non staccarci Attenzione a non staccarci Vabbè Insomma qui ti ha La fa bene Non ti sapea più Dai gli pozzo Abbiamo pochi ciclisti a gestire Dai gli pozzo Dai gli pozzo Dai gli pozzo Dai gli pozzo No... Non lo so neanche io No lo so neanche io Non lo so neanche io No lo so neanche io No lo so neanche io La fa bene la vedo parecchio due quasi che si poteva partire secondo me ok l'importante è che almeno abbiamo gli sconti full questo è importante quindi adesso qualcuno fa partire il devasto ok allora Allora... Co... Coi due ma... Ma qua... Ma qui... Ma qui sape. Allora. Non so, schemi che hanno sfruttato un sacco di uomini, cazzo. Almeno qua la squadra comunque è compatta. Vediamo se qualcuno tenta di partire. Matteo, quanti vuoi venire? Cinque, ok. Allora, vediamo. O ci vorrebbe un attacco di quelli... PAM! Ecco, Matteo, come capito, senta adesso un attacco così. Ci vorrebbe un attacco di quelli proprio... Io, vabbè, avevo un attacco di quelli... Parati. Ok. Ok. Ecco la veduta. Dipende. Vitt, moltissimo, ovviamente. Una novantina. Perché dopo aver una novantina comunque non dovrebbe... 92, infatti dovremmo prenderla bene. Ok, va, la veduta. Tosta come cotta. Minchia, si è tosta come cotta. Occhio, eh. Guarda il pozzo come sta gestendo bene la situazione. Buono il pozzo come la sta gestendo bene. Guarda che adesso spiana leggermente. Andiamo qua. Adesso ci conviene. Ottimo, io possiamo pianare, ottimo. Qua la stiamo gestendo comunque abbastanza bene. Molto no. La stiamo gestendo comunque abbastanza bene. Abbastanza bene, dai. Dai, la stiamo gestendo abbastanza bene. Ci vorrebbe un attacco. Ecco, Matteo, che vuole anche ritentare l'attacco. Quasi che ci vorrebbe un attacco che farebbe un... Un attacco sarebbe... Arriverebbe di sicuro con un attacco, secondo me. Se diventasse il tuo elitano, perché eccolo là. Parte. Cazzo, 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 cazzo. Quanta comita, dove cazzo è? Ecco, ora l'attacco di Alvisi, vediamo. Ma il V-Top non va. Cazzo, adesso devo concentrarmi in pieno. Adesso concentro, tiene posizione bella per... Gel per Santa Comita. Concentrazione, bella, qua. Prendiamo, facciamola bene, facciamola bene. Bella in testa la voglio questa. La voglio bella in testa, fatte tutti e due. La voglio bella in testa, la coscio un po' con. Grande Santa Comita e mo'. Anzi, direi di tuo Pozzovio. Bella come ce la gestiamo. Bella la gestione di Pozzovio. Aspettate un attimo, che adesso... Tac, tac. La protezione, con il punto di... Buona la protezione, adesso taglie, taglie. Possiamo... gestirla bene, ottimo, ottimo. Il Vittimo che va a Santa Comita, tanto. Che per evitare, almeno di... Che... La gente tenta di partire, adesso di tuo tenta di aggungare pici. Tentare aggungare pici, ma... Vabbè, 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 vabbè. La situazione comunque è abbastanza... Punteta. La trattata di tentina del Newf. Non possiamo partire, perché non ci fai a domencare via. A questo punto che si tenta. Non avrebbe sinistro, ci giochiamo prima di tutto, lo spinto anche a sto giro. E... Beh. Vabbè, dobbiamo... Cosa cazzo mi devo inventare? Pesa pure male la salita, cazzo. Non ci voleva. Devo uscire un po' una cosa di questo genere. Sì, già l'abbiamo fatta. Bella, bella, bella. Per entrambi. Anche per lui. Dai, è... Dai, è... Cazzo vai Favi i sconti Male male Vabbè Cazzo Vabbè Vavo pici Vavo pici Io ci ho provato ma Cacchio Cazzo E devo capire come è finita la pina Che non mi ricordo Cazzo Cazzo Sono furioso Sono furioso Semplicemente Gestita malissimo L'ho incazzato Io l'ho gestita male Porco Dio Porco Dio Gestita male Porco Dio Porco Dio L'ho gestita malissimo Ci ho provato Ma non è una cosa mia 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 Non era quello che aveva avuto Lo vince Non è una cosa che aveva avuto Lo vince Ok Sono incazzato Nero Come ho avuto Sono incazzato Non mi ritavano Questo Non mi ritavo Con gente Mita disse Non mi ritavo Io ho fatto male Ok Mi dispiace Mi dispiace Sono incazzato Nero Sono incazzato Nero Ho gestito Malissimo E Gestita malissimo Gestita malissimo Ho gestito Malissimo Cazzo 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 Allora Volevo capire Come abbiamo finito Come è finita la prima La prima ha vinto Ok Penso di Il fatto Ditto Quinto Quinto Penso A questo punto Quinto Quinto Cazzo Non è Cosissimo Sono nervosissimo Non meritavo Questo Quinto Ho fatto So